Presidente Gonte, cosa ne pensa delle polemiche per il 25 aprile? Che sono fuori luogo. Io vorrei vivere in un paese in cui finalmente si arriva il momento in cui il prossimo anniversario 25 aprile non ci siano più polemiche. Vuol dire che tutti ci riconosciamo nel valore della resistenza, nella sconfitta dei nazisti e dei fascisti e nella liberazione, quindi l'avvento della democrazia. Lei cosa farà questo 25 aprile? Dove sarà? Sarò al Museo Storico della Liberazione qui a Roma, via Tasso, che non solo è pieno di testimonianze di quei momenti tragici, quella fase tragica della nostra storia, ma è il suo stesso luogo importante per la memoria collettiva, perché non solo fu il comando generale dell'SS, ma anche adibito a carcere, quindi ci furono tanti episodi di violenza contro i nostri resistenti.